Il valore e la volontà che abbiamo è di dedicare un momento in questo Consiglio Comunale del 27 gennaio ai ragazzi per far sì che con le loro voci, con le loro emozioni, siano loro a narrare l'importanza di questa giornata. Un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni, anzi proprio per aprirle a loro. Quindi per farli entrare in quello che è il Consiglio Comunale, in quella che è appunto la Casa del Comune e per farli sentire protagonisti di questa giornata. Saranno loro a trasmettere l'importanza di questa giornata e del ricordare ai consiglieri. Quindi per una volta appunto saranno gli studenti, i ragazzi che hanno partecipato, aderiscono a questo bellissimo progetto del Comune ad essere protagonisti nel luogo istituzionale.